Con il coronavirus siamo tutti dentro a casa Nella quarantena ma che ci possiamo far Ed è perché in giro c'è questa epidemia arrivata dalla Cina E' così, e' così, e' così, e' così Non vi muovete più da qui Dalla mattina a sera possiamo solo lavorare Della spesa e dei giretti non ci neanche pensare Trovate il tempo di riposare, basta che vi steda la casa